Nel 2009 gareggiavo in Wabba, ok da assolutamente drug free, neanche natural, non voglio usare la parola natural, adesso c'è la parola drug free ed ero 86.6 sul palco, fuori palco, ero 95 kg e quando andavo in spiaggia chiunque mi asseriva in maniera assolutamente ingiusta che non fossi natural, che non fossi drug free perché? Perché purtroppo non abbiamo una media di persone che ha la capacità di rimanere natural per tanto tempo non si fa il mazzo giustamente per diventare molto grossa da natural e non ne vede appunto la convenienza laddove invece abbiamo delle federazioni serie dove fanno test anti-doping anche a sorpresa con modelli prestazionali che possono essere powerlifting eccetera li crediamo alla loro naturalità, quindi perché tutto questo? Che sono prestazioni fantastiche, che magari nessun tipo di dopato ha